Ascolta io ce la meglio, è delle 81 Ma che potete ne meccasola? La mia delle 81 è meglio Cosa è fatto? Rixi, la testa è più isponde Se ne metti messaggi dei scegli Perché donne più ragazzotti Rixi, 15 scegli non la scelta Questa è una sceglia 15 sceglia Anzi, se sono andato a casa C'è la fanno 10, 2 Non voglio anche i scegli Se ne metti nei bagni dei scegli Sono scelta la caccia Allora, urbano Urbano Allora Se ne metti nei bidoni dei scegli Te le butto Che soddisfazione Stasera è tutta una soddisfazione Grazie per la scena Grazie per la scena Grazie per la scena Questa è la scena Allora Fumiamo Sì Grazie per la scena 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 Grazie per la scena